La morte di Pierluigi Ricci per tutti Bigio ha destato sconcerto e dolore in città, tant'è che oggi non si parlava d'altro. Una tragedia che ha colpito tutti e non soltanto chi lo ha conosciuto. 57 anni, commerciante e ristoratore, da alcuni anni si dedicava all'attività di salvamento nelle spiagge fanesi. Bigio ha perso la vita per salvare tre persone, una famiglia di Milano in vacanza in un camping a Torrette di Fano. In acqua, nonostante il mare molto mosso e la bandiera rossa, c'erano fratello e sorella di 13-14 anni con il loro genitore. Una ingenuità che poteva costargli cara se non fosse stato per Bigio, che appena si è accorto di quello che stava succedendo non ci ha pensato un secondo e si è tuffato in mare a nuoto e è andato a prenderseli uno ad uno. Uno sforzo enorme che però il cuore non ha arretto, andando in arresto cardiaco. Pierluigi Ricci è morto in acqua. I ragazzi insieme al padre sono stati portati in ospedale con il 118. Solo l'adulto è rimasto in osservazione tutta la notte, mentre i ragazzi sono stati dimessi poco dopo. Per Bigio invece non c'è stato nulla da fare. Una morte che in tanti hanno commentato, soprattutto sui social network, tra dolore e rabbia. Sotto accusa il mancato rispetto della bandiera rossa. Dopo la tragedia è intervenuta anche l'associazione di categoria Oasi Confartigianato, che adesso chiede di cambiare la legge, di cambiare la normativa in vigore, di dare la possibilità ai bagnini di impedire in modo perentorio l'ingresso in acqua in caso di cattivo tempo, di mare mosso e di segnalare alle autorità marittime i nominativi dei trasgressori. Ieri anche il sindaco di Fano Seri aveva espresso il suo cordoglio e quello dell'intera città per la scomparsa di Ricci e ne aveva esaltato il suo gesto esemplare. Oggi, su proposta del consigliere regionale Mirko Carloni, anche tutta l'assemblea legislativa delle Marche si è fermata per un minuto di silenzio per ricordare la figura di Ricci, mentre qualcuno ha messo dei fiori fuori dalla porta di casa di Bigio in piazza 20 Settembre. Il suo funerale si terrà sabato mattina alle 10 nella chiesa Gran Madre di Dio a San Lazzaro, poi per espressa volontà di Bigio il corpo verrà cremato.